Sono stati letteralmente colti con le mani nel sacco. 16 furbetti dei rifiuti, immortalati dalle fototrappole installate dal comune sul territorio, sono stati identificati e poi sanzionati dalla Polizia Municipale di Lucca. Le sanzioni sono relative ad episodi di abbandono illecito di rifiuti tra i mesi di febbraio e marzo scorsi. Benotto, le sanzioni per abbandoni indiscriminati al cimitero di San Donato, altri sei sono invece stati sorpresi a scaricare in via dei Sillori e due al cimitero di Cappella. Tutti dovranno pagare multe da 600 euro.